Ben trovati con Sfida Yolanda! Unibet ti dà la possibilità di sfidarmi con una multipla. Come fare? Semplicissimo! Basta andare sul sito www.unibet.it alla sezione dedicata e scegliere tre partite. Potete sbizzarrirvi come volete, dalla Ligana alla Premier alla Serie B. Io questa settimana, oramai lo sapete, mi sono concentrata sulla Champions e l'Europa League. Quando c'è Europa, toc toc, sfida Yolanda, risponde. E allora, eccole qui le mie scelte. A cominciare dalla gara del Monaco contro la Juve, per me vincerà la squadra di Max Allegri. Esito finale 2. E poi ho scelto in Champions il derby di Madrid. Gli uomini di Zidane contro quelli della Ciolo Simeone. Per me ci sarà un bel pareggio. Infine l'Europa League, self-avigo contro Manchester United. Per me vinceranno gli uomini di Mourinho. Esito finale 2. Adesso tocca a voi, con le vostre tre partite. Però vi devo ricordare qualcosa sul bonus. Per poter avere la vittoria, nel caso in cui dovessi vincere io, il vostro moltiplicatore dovrebbe essere più alto del mio. Se invece io dovessi perdere, tutti coloro che centreranno la loro multipla avranno diritto al bonus. Anche per questa settimana con Sfida Yolanda è tutto. Vi ricordo di commentare con me sui social con l'hashtag Sfida Yolanda. Vi aspetto numerosi sul sito di Unibet. Il mio guanto di sfida è lanciato. Adesso tocca a voi.